Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video, clicca su Mi Piace e iscriviti al nostro canale. Il futuro di Tina Cipollari nel popolare programma televisivo Uomini e Donne ha scatenato diverse voci e speculazioni online, ma finalmente la diretta interessata ha voluto chiarire la situazione. La celebre vamp di Canale 5, presenza fissa e amatissima nel programma da molti anni, ha deciso di mettere a tacere tutte le supposizioni. Nel corso del weekend, Tina Cipollari ha preso una posizione netta riguardo a queste voci, affermando che non ha assolutamente intenzione di lasciare la trasmissione che l'ha resa una vera e propria stella della televisione italiana. Questa notizia è stata accolta con grande gioia dai suoi affezionati fan, che la seguono con affetto e interesse da tanto tempo. Riguardo alle sue future intenzioni riguardo al programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari ha dichiarato senza mezzi termini. Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno. Ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso da parte di Pier Silvio. Penso di esserci ancora e il pubblico dovrebbe rivedere se Tina Cipollari sia l'immancabile. Le parole della carismatica Tina Cipollari hanno dissipato ogni dubbio riguardo alla sua permanenza nel programma, rassicurando i suoi fan sulla sua continuità nella trasmissione. Nel frattempo, il pubblico può anche attendere con trepidazione il ritorno di Gianni Sperti, altro volto noto del programma di Canale 5, che secondo quanto riportato da Napoli Life riprenderà ufficialmente il suo ruolo a partire dal prossimo 11 settembre. La trasmissione andrà in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45, mantenendo così la sua collocazione abituale nella programmazione televisiva. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.